Per quanto riguarda invece lo sci dedicato alle donne proponiamo l'Epic Joy, una novità per quanto riguarda la collezione 17-18. Sì in grafene, estremamente leggero, è il più leggero nella sua categoria, è caratterizzato quindi da una struttura che ha sì grafene ma anche legno, quindi per garantire performance senza affaticare il pubblico femminile che ovviamente fatica spesso ad avere dell'attrezzatura troppo pesante. La caratteristica dell'Epic Joy è una geometria molto orientata al racing perché abbiamo un 65 sotto il piede, quindi per una donna che ama sì avere un attrezzo non troppo impegnativo ma che cerca comunque delle performance e delle stabilità simili a uno sci racing. Sicuramente uno dei punti forti è la leggerezza dello sci ma accompagnato ha una grande stabilità in curva, sicuramente consigliato per una donna che non ha voglia di avere un materiale pesante sotto i piedi e soprattutto negli spostamenti con gli sci a mano sicuramente è uno sci molto leggero. L'ho trovato molto intuitivo e molto maneggevole. Uno sci molto versatile, un pochino ballerino in punta, ha questo ingresso curva molto immediato quindi assolutamente da raccomandare alle persone a cui piace un ingresso veloce in curva e una buona stabilità in coda. Per chi ama una sciata un pochino più fluida, un pochino più calma non è proprio il suo sci. È uno sci che ho potuto provare su neve sia molle che dura, sulla neve molle è uno sci molto molto leggero quindi è facilissimo, è perfetto per una donna che non ha voglia di fare tanta fatica, che non ama la velocità. Sulla neve è dura evidentemente essendo leggero comunque non tiene tanto però ripeto per chi non ama la velocità e non ha voglia di fare fatica è lo sci adatto, molto semplice. Sulla neve è una situazione.